Ancora interventi a seguito delle contestate e modifiche al percorso cittadino delle manifestazioni legate alla prossima edizione del Mandorvinfiore ad Agrigento. La parola ad alcuni commercianti della Via Atenea. La sfilata per quelle che sono le notizie ultime non passerà dalla Via Atenea la seconda domenica della Sagra. Quello che noi chiediamo come commercianti è di avere un incontro con tutte le componenti dell'organizzazione e del Comune. Perché a noi liquidarci dicendo che è questione di sicurezza che non passerà alla Sagra, a noi qualche dubbio sta avvenendo. Perché le questioni di sicurezza non valgono per la prima domenica e neanche per il giorno della fiaccolata e valgono solo per la seconda. Poi c'è anche una questione che secondo noi se la presenza del pubblico previsto è sulle 20.000 presenze. Credo che spalmarle queste 20.000 presenze su un percorso più lungo di quello che è previsto ci sia a meno rischio. Perché 20.000 presenze su 1.250 metri come hanno affermato l'organizzazione che è la distanza che va dalla posta centrale a Piazza Gavurre. Tenendo conto che alcuni punti non è possibile coprirli come davanti la questura e davanti anche i carabinieri, l'uscita degli automezzi dei carabinieri. Quindi diciamo a calcare in un chilometro queste 20.000 persone secondo me la questione sicurezza lì è diversa. Ancora si impone ancora maggiormente che andarle a spalmare su un percorso di più del doppio. Quindi noi chiediamo di avere un incontro in tempi brevissimi e trovare una soluzione che possa rendere contenti tutti.